lezione 14 verbi irregolari i verbi irregolari sono da imparare a memoria primo verbo dare dare io do tu dai lui dà lei dà noi diamo voi date loro danno vediamo gli esempi lei dà la frutta alla bambina lei dà lei dà la frutta alla bambina voi date troppa retta ai capricci noi diamo poca importanza alle notizie loro danno da mangiare il cane loro danno loro danno da mangiare il cane quanti anni dai a tommaso tu dai quanti anni dai a tommaso noi diamo poca importanza alle notizie loro danno da mangiare il cane quanti anni dai a tommaso ancora una volta io do tu dai lui dà lei dà noi diamo voi date voi date loro danno voi date loro danno voi beve lei beve lei beve noi beviamo voi bevete loro bevano io bevo Tu bevi Lui beve Lei beve Noi beviamo Voi bevete Loro bevano Io non bevo, grazie Io non bevo Io non bevo, grazie Lei beve il succo Lei beve Lei beve il succo Martina beve il latte a colazione Martina beve Martina beve il latte a colazione Bevi il caffè Tu bevi Bevi il caffè Chi beve il vino rosso? Chi beve Chi beve il vino rosso? Loro preferiscono bere la birra Bere è il verbo in infinito Loro preferiscono bere la birra Ancora una volta Io bevo Tu bevi Lui beve Lei beve Noi beviamo Voi bevete Loro bevano Loro bevano Verbo fare Fare Io faccio Tu fai Lui fa Lui fa Lei fa Lei fa Noi facciamo Voi fate Loro fanno Io faccio Faccio il lavoro difficile Io faccio Io faccio il lavoro difficile Tu non fai nuove amicizie Tu non fai Tu non fai nuove amicizie Noi facciamo la pasta con pesce Noi facciamo Noi facciamo la pasta con pesce Io non faccio Io non faccio mai colazione Io non faccio Io non faccio mai colazione Tu fai la festa di compleanno Tu fai Tu fai la festa di compleanno Leonardo fa arrabbiare Leonardo fa Leonardo fa arrabbiare Io faccio il lavoro difficile Tu non fai nuove amicizie Tu non fai nuove amicizie Noi facciamo la pasta con pesce Io non faccio mai colazione Tu fai la festa di compleanno Leonardo fa arrabbiare Proviamo ancora una volta Io faccio io faccio Io faccio tu fai lui fa lei fa noi facciamo voi fate loro fanno Verbo dire Io dico Tu dici Lui dice Lei dice Noi diciamo Loro dicono Lei dice le bugie Lei dice Lei dice le bugie Voi cosa dite? Voi cosa dite? Voi dite Voi cosa dite? Noi non diciamo nulla Noi non diciamo Noi non diciamo nulla Noi non diciamo nulla Io dico a Gabriele che è chiamato Io dico Io dico a Gabriele che è chiamato Meglio dire la verità Dire è nell'infinito Meglio dire la verità Proviamo ancora una volta Io dico Io dico Tu dici Lui dice Lui dice Lei dice Noi diciamo Voi dite Loro dicono Verbo sapere Sapere Io so Tu sai Lui sa Lei sa Noi sappiamo Loro sanno Lei sa qualcosa Lei sa Lei sa qualcosa Voi sapete gli orari? Voi sapete Voi sapete gli orari? Noi Noi non sappiamo A che ora arriva Vittoria Noi non sappiamo Noi non sappiamo A che ora arriva Vittoria Io non so sciare Io non so Io non so sciare Loro sanno nuotare? Loro sanno Loro sanno nuotare? Attenzione Sapere nuotare Sapere sciare Lei sa qualcosa Voi sapete gli orari? Noi non sappiamo A che ora arriva Vittoria Io non so sciare Loro sanno nuotare? Ripetiamo ancora Io so Tu sai Lui sa Lei sa Lei sa Noi sappiamo Voi sapete Loro sanno Verbo dovere Verbo dovere Dovere Io devo Tu devi Lui deve Lei deve Noi dobbiamo Noi dobbiamo Voi dovete Loro devono Io devo Io devo Io devo Tu devi Lui deve Lei deve Noi dobbiamo Voi dovete Loro devono Lei deve Lavorare sabato Lei deve Lei deve Lavorare sabato Voi dovete Ascoltare Voi dovete Voi dovete Ascoltare Noi non dobbiamo Cucinare stasera Noi non dobbiamo Noi non dobbiamo Cucinare stasera Tu devi riposare Tu devi Tu devi riposare Devo ringraziare Elena per l'aiuto Io devo Devo ringraziare Elena per l'aiuto Devo ringraziare Elena per l'aiuto Lei deve Lavorare sabato Voi dovete Ascoltare Noi non dobbiamo Cucinare stasera Tu devi Riposare Devo ringraziare Elena per l'aiuto Ripetiamo ancora una volta Io devo Tu devi Lui deve Lei deve Noi dobbiamo Voi dovete Loro devono Verbo potere Potere Io posso Tu puoi Lui può Lei può Noi possiamo Voi potete Loro possono Io posso Tu puoi Lui può Lei può Noi possiamo Voi potete Loro possono Francesca può guardare la tv Francesca può Francesca può guardare la tv Voi non potete Voi non potete Parlare Voi non potete Voi non potete parlare Non possono giocare qui Posso chiedere Io posso Posso chiedere Lei non potete Lei non può comprare una macchina Francesca 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 può guardare la tv Francesca può guardare la tv Voi non potete parlare I bambini non potete I bambini non possono giocare qui Posso chiedere? Lei non può comprare una macchina Ripetiamo ancora una volta Io posso Tu puoi Tu puoi Lui può Lei può Noi possiamo Voi potete Loro possono Verbo volere Volere Io voglio Tu vuoi Lui vuole Lei vuole Noi vogliamo Voi volete Loro vogliono Loro vogliono Il cane vuole mangiare Il cane vuole Il cane vuole mangiare Vuoi guardare un film? Tu vuoi Vuoi guardare un film? Vuoi guardare un film? Io voglio un caffè Io voglio Io voglio un caffè Volete giocare insieme? Voi volete Volete giocare insieme? Lei non vuole mangiare la pizza Lei non vuole Lei non vuole mangiare la pizza Lei non vuole mangiare la pizza Il cane vuole mangiare Proviamo ancora una volta Proviamo ancora una volta Tu vuole mangiare la pizza Lui vuole Lui vuole Lei vuole Lei vuole Noi vogliamo Noi vogliamo Voi volete Loro vogliono Amici Imparate bene i verbi irregolari Vi aspetto alla prossima lezione Vi aspetto alla prossima lezione Grazie.